Salve a tutti, io sono Gennaro Giuliano e mi occuperò di disabilità, è un tema che mi sta molto a cuore, come le politiche sociali, scusatemi, non sono un politico quindi sono abbastanza emozionato. Vi ringrazio per la partecipazione e spero di fare il bene per questa città. Grazie a tutti. Vai Adriana. Grazie. 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 Grazie.